Ciao a tutti! Oggi prepareremo la scalora con patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono scalora, patate lessate e tagliate a pezzetti, aglio, peperoncino, sale, pepe, olio, acqua e dado vegetale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, il peperoncino e l'aglio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere la scalora. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il dado, il sale, il pepe e l'acqua. e cuocere per 18 minuti, 100 gradi, velocità 1. La scalora è cotta, trasferiamola nella ciotola con le patate. Scarola con patate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!